Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Cremici di svelata, bentornati. Da quando il mondo dei media ha annunciato, ha proclamato la vittoria di Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America, i media, soprattutto italiani, si sentono più rilassati. Joe Biden li ha liberati dalla quotidiana recita con la maschera triste che imponeva la temeraria sfida del tutti contro uno, Trump. Adesso, finalmente, come circa cinque anni fa, il mondo tornerà ad essere splendente e redente. Anche la crisi, la disoccupazione, gli uragani, il coronavirus saranno belli con Joe Biden. L'onda blu nessuno l'ha vista, però finalmente gli antifa e i Black Lives Matter potranno smettere l'assetto di guerra, gli assalti agli sbirri. La guerra civile è scongiurata, niente più inginocchiati. Il vecchietto sorridente preso in prestito da qualche pubblicità per gli apparecchi per l'udito. E' egli stesso il vaccino al male. Eppure, se c'è un razzista, uno che è molto poco per la famigerata uguaglianza, questo è proprio Joe Biden. Adesso che finalmente, forse, non ci sarà nessun presidente da censurare, quando non si è mai censurato Bill Laden, Per esempio, oggi che De Niro ne gioisce e paragona Trump a Hitler, tocca rivedere gli sbianchettamenti liberal sul curriculum di Biden. Un uomo che ha fatto solo politica in tutta la sua vita, non ha mai lavorato un sol giorno, e che, soprattutto in Italia, probabilmente, in pochissimi, conoscono veramente. Ignorano le sue geste da senatore e vicepresidente poi. C'era lui a fare da braccio destro di Obama quando occupai Wall Street, nato sulla scia delle primavere arabe, e il successivo sciopero degli insegnanti del Wisconsin, mostravano al mondo l'oppressione della polizia violentemente militarizzata, ma che non scandalizzava. Sotto l'amministrazione Obama abbiamo assistito alla costruzione di un massiccio, quanto indiscriminato, sistema di sorveglianza per le comunità musulmani americane, l'escalation delle guerre per procura in Medio Oriente, che includevano l'assassino dei cittadini degli Stati Uniti, il numero record di deportazioni di immigrati e la nascita del movimento Black Lives Matter. Obama e Biden sono sempre stati complici. Biden è stato un precoce astro nascente della politica statunitense. Eletto al Senato per lo Stato di Delaware nel 1973, subito si trovò a gestire la brutta storia della segregazione. La popolazione scolastica di Wimtington era quasi al 90% non bianca e l'86% dei bambini di terza elementare non sapeva leggere. Ma Biden era contro la desegregazione nelle scuole e soprattutto contro il fatto che i studenti bianchi e neri frequentassero gli stessi autobus. Era proprio questa una delle proposte per combattere la segregazione razziale. Biden era, come scriverà, per un'integrazione ordinata. Il Times riferì, il New York Times, che Biden si schierò dalla parte di Helms, qualcuno si ricorda perché i Liberali iniziarono ad odiare il senatore della Carolina del Nord, nel 1975, quando quest'ultimo propose di privare il governo federale del potere di trattenere i finanziamenti dei distretti scolastici che si rifiutavano di rispettare le misure circa l'uguaglianza razziale. Andava più forte, piuttosto offerta, una bella versione polite della dottrina separati ma uguali. A giugno, nel pieno della corsa presidenziale, i Liberali hanno scenato il teatrino per ripulire l'immagine di nonno Joe. Kamala Harris, da donna di colore, ha chiesto spiegazioni in merito alle sopraccettate mosse politiche, dicendosi certa però che egli non fossi un razzista. La faccenda si è risolta in breve, con Biden che ha semplicemente risposto che tutte le sue posizioni erano state riportate male. E vai con Dio. Biden ha accettato l'invasione dell'Afghanistan nel 2001 e votato a favore dell'autorizzazione all'uso della forza contro Saddam nel 2002, ma il guerrafondaio era Bush. Donno Joe tentò per due volte la corsa alla nomination democratica, prima nel 1988 e poi nel 2008. In quest'ultima occasione fu scelto poi come candidato vicepresidente da Barack Obama, risultando, dopo la vittoria contro McCain, il primo vero VIP cattolico adultissimo della storia USA. Joe Biden, come era logico aspettarsi, ha concentrato la sua attività da vicepresidente, che nella cronaca internazionale pareva assai marginale, tutta sulle negoziazioni tra democratici e repubblicani in Senato per far passare iniziative bipartisan e portare avanti l'agenda obamiana, cosa che gli ha regalato belle amicizie anche in vista della corsa alla Casa Bianca. Quella di Joe McCain, capofila dei nemici repubblicani del Presidente Trump, ha sicuramente contribuito a consolidare un'asse tra gli establishment democratici e repubblicani volto ad arginare la nuova amministrazione. Il debole di Biden per gli uomini di guerra, però, ben prima di McCain, inizia con il maresciallo comunista Tito nel 1979. Il giornalista italiano Fausto Biloslavo ha recuperato la lettera dell'allore senatore a Sua Eccellenza e il maresciallo Tito. I due ebbero una specie di colpo di fulmine. Nonno Joe dirà con orgoglio di aver stretto la mano incontrato uno degli uomini più affascinanti della storia. È poco male per le mani sporche di sangue del maresciallo Tito. Biden è rimasto per sempre attratto da quel genio particolare. Defini così il boia comunista che ha rubato la vita agli italiani nella Seconda Guerra Mondiale, scaraventandoli nelle foibe. Qualche anno dopo, Biden sarà l'eminenza grigia, l'architetto dello Stato prigione, come ha denunciato, anche recentemente, il senatore afroamericano Dem Jersey Cory Booker. Usi quella retorica pasulla e dura, mai distrutto, comunità come la mia, ha detto Booker, che ha poi aggiunto gli emendamenti di Biden sono stati la più grande sconfitta simbolica per i diritti civili dal 1964. Ma anche Booker, come Kamala Harris, verrà indotto al pentimento per queste dichiarazioni, non lasciando più la Harris come l'unica donna di colore pronta a sostenere la sua presidenza. Il riferimento in questione era al Clinton Crime Bill, il riferimento di Booker, quando nel 1994, non ho giù, scrisse l'impianto legislativo di quello che passerà alla storia come il Clinton Crime Bill, le nuove leggi Jim Crow, ricorderete Crow. Per anni, tanti analisti hanno giudicato la legge Clinton come la legge che relegò gli africani allo Stato di quegli anni. Quelle leggi estesero la pena di morte a 69 crimini, irrigidirono le condanne, offrirono agli Stati forti incentivi finanziari per la costruzione di nuove prigioni, inondarono le città di Poliziotti, contribuirono all'ondata di incarcerazioni di massa, che non fecero altro che sostenere la segregazione razziale, rendere la polizia più aggressiva e riempire le carceri di neri. furono loro a subire il peso maggiore degli effetti della legge sul crimine. E non ci dilunghiamo su quello che è successo nel doppio mandato di Obama, proprio nel rapporto con la polizia, la caccia ai bianchi e gli omicidi dei neri. Chissà però perché i Black Lives Matter, così nemici delle cosiddette vite blu, la divisa blu indossata dalla polizia, non si sono mai espressi in proposito. I tribunali hanno esagerato nella loro interpretazione di ciò che è necessario per porre rimedio alla segregazione illegale, diceva Nonno Gio in un'intervista del 1975. Una cosa è dire che non puoi impedire a un uomo di colore di usare questo bagno. E qualcosa completamente diverso è dire che una persona su cinque che usa questo bagno deve essere nera. Così non va. Forse è per questo che quando il mondo nazionalista suprematista bianco ha visto la candidatura di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti d'America come certa, è rimasto folgorato. Uno su tutti, Richard Spencer, che quando è impazzito di gioia ha votato per la prima volta un democratico rivendicando e sostenendo il voto per mesi. E' così che va la narrazione di giornali internazionali. Alcune cose è meglio non dirle. Il politicamente corrotto è proprio così. Così è a questo modus operandi. Ci sono cose da censurare e altre da perdonare e basta. E allora va bene il razzismo, il suprematismo bianco. Basta sia liberal. Va bene l'Ucraina-Gate, il Groping Joe, il regime comunista cinese che festeggia la possibilità di non dover più confrontarsi con Trump. I fratelli musulmani Teran che esultano sognando un nuovo primavera arabe e la fine di tutti i passi avanti che Donald Trump ha fatto in Medio Oriente insieme agli antisemiti che guardano Biden come il nuovo Corben. D'altronde si sa che il movimento dei Black Lives Matter è solo un movimento omosessualista mascherato da un movimento nero con altri obiettivi e altre cause come certifica The Queering of Black Lives Matter un documento, un rapporto uscito l'anno scorso proprio sul movimento e che nonno giù la pensa come Kamala Harris il governo federale dovrebbe trattare i sostenitori pro-life come segregazionisti e allora è viva la rivoluzione liberal. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia